Un evento molto importante che sta coinvolgendo tutta Italia, questa volta la fiaccola è arrivata in anticipo in Abruzzo e quindi abbiamo pensato insieme al Presidente del Consiglio regionale di Sospiri di farla ospitare, quindi di accoglierla nella casa degli abruzzesi e questo è un segno molto importante per noi, che ci dà molta forza a continuare in questo percorso di inclusione, perché sappiamo tutti che lo sport può fare la differenza e lo sport può unire le persone, può far uscire da tutti il meglio e quindi lo sport è uno strumento ideale per queste persone con disabilità intellettiva. Quanti atleti abbiamo in Abruzzo di Special Olympics? Attualmente ce ne abbiamo un 200 atleti che sono sparsi per tutta la regione, passando da Roseto degli Abruzzi, Teramo, Pescara, Pianella, L'Aquila, Sulmona, però siamo ancora pochi, siamo ancora pochi, quindi il messaggio è alle famiglie che hanno queste persone e che hanno una difficoltà anche motoria di accedere allo sport, di fare lo sport ma con delle agenzie organizzate, fosse il CIP, la FISDIR o Special Olympics. E' importante che ci sia questo messaggio perché solo in questo modo riusciremo a raggiungere l'inclusione sociale, sta portando queste persone all'interno delle società sportive. La Fiaccola farà tappa in altre città di Abruzzo? Sì, è un percorso impegnativo che ha voluto intraprendere Special Olympics Team Abruzzo, quello di non fare una sola tappa nel capoluogo di regione, ma di portare questo fuoco e quindi di incendiare, di infiammare le piazze di Pescara e di Sulmona.